Salve a tutti, in questa puntata parlerò un po', mi scuserete, del sottoscritto, perché voglio fare per quei quattro, scusate il termine, coglioni che ci sono o come chiamo io le cornacchie, per chiarire alcune cose che non stanno né in cielo né in terra, di che cosa voglio parlare? Parlo di quello che viene definito da Taluni la questione dei miei ruoli all'interno della politica dell'amministrazione comunale. Partiamo dall'inizio, sono Sindaco Varallo, sono a Borgosesia in aiuto all'amministrazione comunale nuova, perché ricorderete l'anno scorso ho presentato una lista anche e soprattutto col mio nome e abbiamo vinto, sono a Roma da due anni, grazie a voi, e due mesi fa alle elezioni regionali sono risultato il più votato in provincia di Vercelli con il doppio dei voti rispetto al secondo e ho ottenuto un seggio alla regione che come ho sempre detto, la testimonianza di questa trasmissione è lampante, io corso le regionali per fare in modo che la Valsesia potesse avere finalmente pari dignità con gli altri, soprattutto con Torino, ho corso per cercare di cambiare il governo regionale di sinistra che c'era fino a due mesi fa e che ha sostanzialmente dimenticato il nostro territorio a favore di Torino e di altre province, ho corso perché secondo me è importante avere un consigliere regionale in Piemonte, quindi a Torino, Valsesiano, cosa è venuto fuori? Che grazie al vostro consenso, datomi, ho ottenuto questo risultato, ovviamente che cosa capita? Che sono in quattro posti diversi, questi quattro posti diversi hanno generato tutta una serie di situazioni, è incompatibile, non si può, allora fin da subito si sapeva e non ho mai fatto mistero, che fare consigliere regionale non si può fare se uno è deputato e neanche puoi essere sindaco, allora io che cosa ho fatto? Parlando con Cota, con il Presidente della regione, ma già durante la campagna elettorale ho detto se andrà bene, se tu vincerai perché io cercherò di darti la mano più possibile e se io risulterò eletto non posso ricoprire tutti questi ruoli e quindi bisogna trovare un modo perché io sia protagonista per quanto riguarda il territorio a Torino, anche non facendo il consigliere regionale e abbiamo trovato la soluzione quando è venuto su il 18 di aprile a Varallo in piazza davanti e migliaia di persone, cioè che ho ricevuto dal Governatore del Piemonte e la delega per tutto quanto riguarda sul territorio e che quindi anche se non dovessi essere consigliere regionale ho tutte le possibilità di poter intervenire perché quando si parla del territorio la mia voce equivale a quella del Governatore, questo è quello che è stato detto in piazza dal Governatore Cota e dal sottoscritto, però ovviamente al momento io sono ancora consigliere regionale, perché non mi sono ancora dimesso? Perché innanzitutto io a oggi dopo quasi tre mesi dalla vittoria non ho ancora ricevuto una lettera che mi dica che io sono incompatibile, aspetto di riceverla, non ho ancora ricevuta, ma quello che vi sto dicendo adesso, il nocciolo qual è? Uno, che anche quando io mi dimetterò dalla Regione, dietro di me c'è un altro Valsesiano, perché già da prima avevo pensato e quindi c'è un altro Valsesiano che sarà dopo di me e quindi sarà presente nel Consiglio regionale e quindi la Valsese sarà comunque rappresentata a Torino e io ho questa delega, questo, addirittura adesso si sta per fare anche un decreto che mi permetterà di poter muovermi come meglio credo pur non essendo in Regione. Cosa dicono le cornacchie per non dire altri nomi? Ah, buon anno, sindaco, più vice sindaco Borgosese, più consigliere regionale, più deputato prende quattro stipendi, è una balla colossale. Io prendo un'indennità sola che è quella del parlamentare, non prendo un centesimo dalla Regione neanche rimborsi spese, non prendo niente, zero, ho fatto un documento in cui ho dichiarato e chiesto, così come il Presidente Cotta ad esempio che è anche lui deputato, di non ricevere alcune indennità e quindi non ricevo niente. Dal Comune di Borgosesia non ricevo un centesimo, niente, non prendo soldi dal Comune di Borgosesia. Dal Comune di Varallo la mia indennità di sindaco non ricevo soldi come indennità da sindaco e adesso vi dico con i soldoni come funziona. L'indennità di sindaco di Varallo lordi sono circa 30 mila Euro all'anno che io non percepisco e non percepisco da anni e questi soldi vengono spesi per il sociale, per le famiglie che hanno più bisogno, per chi è in difficoltà, questi soldi sono messi in un capitolo apposito per quanto riguarda le persone in difficoltà, quindi io non ricevo nessuna indennità da sindaco di Varallo da anni. Ve lo dico perché, perché quando sentite qualche cretino o coglione, scusate il termine, che dice che io prendo i soldi a Varallo con l'indennità da sindaco è un bugiardo o una bugiarda. A Borgosesia il vice sindaco prenderebbe lordi un'indennità di circa 20 mila Euro all'anno, non percepisco alcunché, quindi anche a Borgosesia i 20 mila Euro all'anno lordi che spenderebbe il Comune per pagare il vice sindaco che non paga, cioè io, le abbiamo messi nel sociale per dare aiuto alle famiglie, ai bisognosi, a chi è in difficoltà, per i buoni spese, eccetera. Quindi sia a Varallo che a Borgosesia io non prendo alcuna indennità. In Regione non prendo alcuna indennità, quindi su quattro cariche prendo i soldi da deputato che sono già sufficienti per quello che serve. Allora in questa logica a me viene da dire, uno, va bene che sono in quattro posti, che poi diventeranno tre, ma secondo voi sono in questi quattro posti perché è venuto qualcuno e mi ha messo la spada sulla spalla e mi ha detto adesso tu lo fai o sono stato votato? Mi sembra che sono stato votato. Se fino anche due mesi fa ho preso in assoluto più voti in tutta la provincia di Vercelli, la gente è stupida, non lo sapeva che ero deputato e sindaco e stavo a Borgosesia? Certo che sì. Cosa significa questo? Che la gente ha fiducia nel sottoscritto, che comunque porta dei risultati. Ad esempio Flexibus per tutte le zone di montagna. Per la prima volta la regione, guarda caso, non è un caso, lo dico ironicamente, la regione per la prima volta ha stanziato dei soldi per contribuire a questo servizio che serve soprattutto gli anziani dell'Alta Valle, per portare la gente all'ospedale e i vari servizi. È intervenuta la regione. La regione domani viene da me il direttore generale dell'Asia perché abbiamo richiesto ormai da tempo, ma adesso che siamo al governo lo richiediamo ancora più forte, vogliamo la rianimazione all'ospedale di Borgosesia che non esiste. Se c'è uno in fin di vita o che deve subire un intervento delicato, non si può fare a Borgosesia perché non c'è la rianimazione. Ospedale nuovo e invece ci sono servizi che non esistono e per cui anche se è nuovo l'ospedale, per modo di dire perché vengono giù i pezzi, piove dentro, cadono i piestrelloni fuori, i rivestimenti, per fortuna che è nuovo, non ci sono i servizi adatti per cui abbiamo chiesto e chiedo come deputato, come sindaco, come consigliere regionale che ci sia la rianimazione. Adesso viene fuori anche qualcuno che si sveglia dopo un anno e dice bisogna proporre un'idea alla rianimazione, peccato che sia venuto a casa un po' tardi.